Roberto Erlisca, che dire, grande, grandissimo attore, gli aggettivi possono continuare, quindi diciamo solo Roberto Erlisca. Io partirei da un po' lontano, cioè da Orazio Costa, che Orazio Costa, ne abbiamo già parlato con Glauco Mauri, sempre su questo palcoscenico, e Glauco Mauri diceva, parlava della grandezza di Orazio Costa e di come però poi, non avesse avuto quello che si meritava. In effetti rispetto a tanti altri, Orazio Costa è qualche passo indietro, mentre invece Mauri ci spiegava che era un grandissimo regista e un grandissimo maestro. Io non parlerei tanto di passi indietro, perché questo vorrebbe dire fare una specie di classifica con Costa, non si può fare. Costa è stato emarginato più che altro, non è che è stato tirato indietro, è stato messo fuori. Intanto perché non si può non dirlo, ma quella era un'epoca in cui, tutto sommato possiamo ringraziare, la sinistra aveva in mano la cultura, cosa che peraltro dove c'è cultura è ancora in mano la sinistra, dato che dalle altre parti di cultura tanta non ce n'è. Però invece Costa, essendo molto religioso, Costa, chiaramente non era di sinistra, non con questo che avesse nessuna attività politica o che professasse nessuna fede politica, però sicuramente non era considerato di sinistra. E questo gli ha nuociuto molto, perché allora indubbiamente la sinistra aveva in mano le redini della cultura. Però essendo molto religioso, Costa pensava di in qualche modo poter essere riconosciuto dal Vaticano, dal clero, non proprio dal Vaticano, perché lui dava un'impronta religiosa, ma totalmente sincera a tutti i suoi spettacoli e ha creduto di poter essere aiutato, dopodiché a un certo punto lo ha abbandonato totalmente anche il clero, quindi praticamente non ha avuto più nessuno che lo sostenesse. In più bisogna dire che, come diceva giustamente Mauri, lui non era certo accomodante, non aveva… Carattere difficile. Difficile, era rigorosissimo, ma nell'arte se non lo si è non si combina nulla. In più era del tutto incapace di amministrare gli eventuali soldi che avesse, negli spettacoli non si sapeva certo barcamenare bene in quell'ambiente, si affidava magari a persone che ne sapevano poco o anche troppo e questo ha fatto sì che lui avesse una figura di regista non desiderabile, non molto appetibile e questo probabilmente è bastato per metterlo da parte. Poi certo lui non è uno che andasse a cercare a destra e a sinistra gli aiuti e quindi lui stesso si è ritirato abbastanza sdegnosamente dalla mischia. Come maestro com'era Costa? Costa era un maestro, difatti tutti quelli che lo hanno conosciuto non lo possono certo ignorare e lo ricordano volentieri, tranne qualcuno che magari invece preferisce non dimenticarselo, ma tutto il teatro italiano di questa generazione è passato attraverso Costa e d'altronde era un maestro i cui insegnamenti non si possono dimenticare perché erano insegnamenti che andavano proprio alla radice della ragione di fare il teatro e quindi se uno li sentiva poi… naturalmente i suoi insegnamenti erano talmente assoluti, talmente indiscutibili che molto spesso inducevano all'errore. Io per esempio primi anni, un bel po' di tempo dopo essere uscito dall'Accademia e quindi dalle sue cure, ero considerato un pazzoide che lo imitava e difatti ero un pazzoide che lo imitava, però devo dire che le cose che lui mi aveva inculcato poi piano piano si sono, spero, trasformate in me e sono diventate un patrimonio che io non avrei mai ricevuto da un altro. Ecco, una domanda che mi sono sempre fatta, poi avendo di fronte il grande attore la domanda viene diretta. Un grande attore riesce a lavorare con qualsiasi regista? Qual è il rapporto di un attore del suo livello? So che la domanda può sembrare… No, 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 l'unica cosa che non mi torna tantissimo è di essere chiamato grande attore come se fosse una cosa scontata. Lei lo è e quindi lo sappiamo tutti che lo è e la amiamo per questo. Non sarò io, non sarò io a dirlo io. No, 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 no. Perché la domanda non è banale credo, è complicato, poi la chiamano e lei va a lavorare, e poi si trova di fronte… No, no, la domanda è abbastanza semplice, nel senso che non si può lavorare con qualsiasi regista. Naturalmente se uno accetta un lavoro e si trova un regista non è che può protestarlo e dire vattene che sto io, però può fare da sé e mi è capitato. E qua volevo arrivare, quindi molto spesso si fa da sé. Non molto spesso perché poi insomma di registi proprio da rifiutare non è che ce n'è così tanti insomma, però anche se non sono da rifiutare comunque diciamo che un apporto personale può essere forte in molti casi, anche in casi meno negativi. Per esempio io posso nominare volentieri, lo faccio peraltro sempre, un regista come Tonino Calenda che è un signor regista, il quale però nei confronti di qualcuno, uno dei quali certamente sono io, ha anche la capacità di lasciarti fare, di ascoltare, di prendere quello che mi pare giusto e di collaborare veramente. Insomma quindi in fondo il modo migliore per lavorare con un regista è quello di collaborare piuttosto che o di seguirlo diciamo al millimetro oppure di contestarlo. Vedo che lei ha lavorato con quasi tutti i registi italiani importanti, no mi pare? Beh non proprio, posso dirlo, io ho lavorato appunto con Costa, poi ho lavorato per esempio con Missiroli, con Squarzina, con Pagliaro, adesso certamente me ne dimentico qualcuno, poi mangerò le mani. Con l'Avert Müller, poi ne parleremo. Però l'Avert Müller diciamo che sì, ha fatto anche di lavoro in teatro però è più di cinema. Il tipo di lavoro con questo tipo di registi, come lei lo imposta o l'ha impostato sempre allo stesso modo? Cioè lei sa benissimo dove vuole arrivare oppure il rapporto è molto di collaborazione? Mi spiego meglio, un attore del suo livello sa dove vuole arrivare secondo me. No, io no, non so gli altri attori del mio livello. Forse lo sa dentro. No, io so che quando leggo un testo mi vengono delle specie di suggerimenti di tipo fantastico se vogliamo, anche emozionale, dei quali poi tengo conto, anzi sono quelli di cui più tengo conto per fare quel personaggio. Però non è che io abbia un'idea prima di come lo farò. So quali sono le cose che mi spingono a farlo in un certo modo, ma soprattutto se il testo è un testo complesso, un testo profondo, il personaggio lo si scopre piano piano o in fretta, ma insomma non tutto all'inizio. Ci si rivela facendolo, conoscendolo di più ci si rivela e cambia. Quindi diciamo che un bravo regista con lei riesce a captare le sue suggestioni e a coordinarle. Sì, ma non si può farne una regola direi, perché se un regista ha già in mente come fare un personaggio, ed è un bravo regista, io come attore mi sento, non dico tenuto, ma invogliato a fare esattamente quello che lui mi chiede. Naturalmente se poi durante la lavorazione mi vengono delle altre idee, gliele propongo e lui può anche accettarle oppure rifiutarle. Ma per dire, ho lavorato con Peter Stein, che è un grande regista, il quale mi ha dato una notevole libertà. Quando si è accorto che la mia libertà era una libertà di tipo attivo e non solo personale. E' successo addirittura che io gli abbia proposto un modo di fare una scena che lui mi aveva chiesto di fare in un altro modo e lui abbia detto no, no, farla al tuo. Ecco, voglio dire, se un regista è intelligente, in poche parole, e trova che un attore gli propone delle cose che vanno bene. Altre volte invece mi ha stoppato su certe proposte che gli ho fatto e non gli andavano. Quindi voglio dire, dipende da regista. E' chiaro che se invece il regista non sa quello che vuole, o perlomeno non ne ha un'idea così precisa, a questo punto l'attore cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. A lei è capitato spesso? No, no, non molto spesso. Anche perché il mio atteggiamento nei confronti dei registi è un atteggiamento logico di strumento. Uno dice no, faccio il regista, lo faccio io. Oppure faccio il regista di me stesso, come ci sono degli esempi, tanto per dirne uno, Gabriele Lavia, è un grande regista, un grande attore e fa benissimo tutte e due. Io invece non intendo fare il regista, intendo fare soltanto l'attore. Hai anticipato la mia domanda, hai già fatto la risposta. Non intendo fare il regista. E perché? Posso cercare di spiegarlo. Il regista è uno che vede la realtà in un certo senso contemplandola. Invece l'attore la vede e la fa, la agisce la realtà. Se io mi metto a fare il regista in me, si scontrano due parti di me, una delle quali è quella meditativa e l'altra è quella attiva. Siccome la mia parte meditativa è probabilmente più forte di quella attiva, io temo che se mi metto a fare il regista smetto di fare l'attore. Siccome voglio ancora fare l'attore finché posso e non mi sento ancora arrivato, io metto da parte il regista. Un giorno forse fare il regista. Abbiamo detto che il suo grande, uno di sicuramente i maestri è sicuramente Orazio Costa, ma tutt'oggi ci sono quelle persone che possono essere considerate come dei maestri nel panorama insomma culturale o teatrale. Certo, panorama teatrale di maestri ce n'è più di uno. Tanto tutti i bravi grandi registi che abbiamo, per esempio Ronconi, per esempio Castri, tanto per dire, poi gli altri ci sono e non mi vengono in mente. Ma non solo, ma anche un attore può essere un maestro se uno ci lavora insieme, certo se uno lo va a vedere può vedere delle cose, ma lavorandoci assieme si possono imparare tante cose, tutti gli attori bravi e devo dire a volte sono maestri anche gli attori non bravi, nel senso che ti insegnano quello che è meglio non fare. Oppure in un certo senso ti insegnano comunque a vedere recitare un altro, si impara molto vedendo recitare un altro, perché si vede uno sforzo da fuori, cosa che quando lo fai tu personalmente ovviamente non puoi vedere. Quindi i maestri ce ne sono, strono dappertutto i maestri. C'è uno spettacolo che io ho amato molto, ma insomma poi lei spettacoli ne ha fatti moltissimi e importantissimi. Uno spettacolo di cui parlavamo prima ad iniziare questa intervista, nel quale lei fa una vecchia, odiosa e terribile nazista. Sì. Quello per esempio, quello era uno spettacolo con la regia di Lina Vermuller, la autrice Schneider si chiama. La autrice si chiama Helga Schneider. Ed è la storia della madre. Ed è la storia della propria madre, quindi è un libro del tutto autobiografico che è stato ridotto per teatro dalla Vermuller, solo a lei poteva venire l'idea di far fare una vecchia donna da un vecchio uomo. E devo dire che il risultato proprio grazie alla Vermuller e alla sua apertura fantastica, nonché ovviamente alla mia disponibilità, è venuto come una cosa abbastanza impressionante. Perché c'era anche del grottesco, non era soltanto horror. Sì, perché è la storia di questa ragazza che cerca la madre. La storia di una ragazza che da bambina viene abbandonata dalla madre. Storia vera poi. Storia verissima. La madre abbandona i suoi due figli piccoli e il marito per andare a fare la guzzina in Birkenau, Auschwitz. Un campo di concentramento. Un campo di concentramento perché era, come tante donne di quell'epoca, infatuata di Hitler e del nazismo. E in questo campo si comporta da vera guzzina, accompagnando bambini, facendoli cantare, accompagnandoli nei forni e cose di questo genere. La quale, quando poi il nazismo viene sconfitto, riceve una pena detentiva molto blanda e poi si ritira in un pensionato di anziani. La figlia, che non l'ha mai più vista e l'ha cercata, la ritrova e la va a trovare. La va a trovare e la trova ancora completamente nazista fino in fondo. La tratta anche abbastanza male, cioè la vecchia tratta male la figlia. E lei ci scrive sopra un libro che si chiama Lasciami andare madre e che appunto noi abbiamo messo in scena con la Milena Vuccotti. Era la figlia, che lei è straordinaria. Ci sono dei personaggi ancora che le vuole interpretare? Sì, Otello. Ecco, questo è bello. Otello. Voglio fare Otello. Voglio fare Otello. Perché non l'ha mai fatto? Non me lo hanno mai. A volte, come lei, può anche dire mi piace fare questo e glielo offrono. Io l'ho detto, ma non me lo sono fatto tutto da solo e vabbè, l'ho fatto due o tre volte, ma poi non lo hanno più voluto vedere. Insomma, vorrei fare un Otello che, contrariamente alla sua immagine diciamo così tradizionale di grande, di guerriero, eccetera, è uno stratega più che un guerriero, quindi è in un certo senso un cerebrale e si rende conto che l'amore con Desdemona è impossibile e allora decide di distruggersi e di usare Iago come, diciamo così, pedina per distruggere se stesso e tutto genere Iago è lui che usa Otello invece in questo caso. Però una mia trovata, non è più che una trovata, è questa, di farlo parlare con un accento da extracomunitario, perché lo era in effetti, quando parla con gli altri, mentre invece quando parla con se stesso, cioè fa i monologhi e anche nelle battute con gli altri alcune cose magari le dice a se stesso, con una lingua invece normale come quella che si usa quando si parla con se stessi. Ecco, e questo è il mio Otello, che io lo dico a tutti sperando che qualcuno lo faccia comunque, anche senza di me. Si ricorda quell'edizione famosa dell'Otello con Gassman e Salvo Randone che si alternavano? Sì, sì, me lo ricordo. Ecco, ma a lei non piacerebbe fare un Otello dove una volta fa Iago una volta? No, quello me lo hanno anche proposto ma ho rifiutato, non piace. Se faccio una parte voglio fare quella. Curioso, cioè Iago non l'ha mai… Come l'ho fatto, avendo l'ho fatto non voglio fare più intanto, perché una volta che uno l'ha fatta l'unica parte che… E chi era Otello in quell'occasione? Era Massimo Foschi. Era Massimo Foschi. E Desdemona era Elisabetta Carta. L'unica parte che io sono disposto a rifare per sempre e l'amleto, tant'è vero che me lo faccio tutto da me. Insomma, ogni tanto lo rifaccio. Ma Iago no? No, Iago l'ho fatto, basta. Basta. Quindi quando fa un personaggio poi… Poi io sono troppo naturale per fare Iago, insomma, un viso chiaramente che può essere anche un po'… uno si può anche non fidare di me. E quindi lei dice troppo facile fare Iago. Troppo normale, sì. Senta, nel cinema lei ha fatto dei ruoli molto belli. Io sto pensando al rapporto con Bellocchio. Certo. Ebbè, quello è stato indubbiamente una cosa che ha avuto un grande… Buongiorno a notte. Sì, buongiorno a notte, ha avuto molta eco, il film è stato visto da molti. Fu il vincitore morale di Venezia quell'anno perché avrebbe dovuto vincere. Assolutamente, sì, sì, sì. O almeno avere un ex equo. Bellocchio non ha mai vinto un premio in Italia fino adesso. Ha vinto premio alla carriera, Bellocchio, ma non… Sì, vabbè, un premio alla carriera, quello non è la stessa cosa. Ultimamente ho partecipato al film che lui sta girando, che è quello sulla Englaro. Sì. Sulla bella addormentata. E l'ho fatto molto volentieri, una piccola partecipazione, insomma, con Bellocchio. Ma Buongiorno a notte le ha dato molto. Sì, sì, mi ha dato moltissimo, sia come, diciamo così, esperienza quando l'ho girato, sia come, devo dire, risultato artistico e sia come visibilità, perché sono diventato da ignoto a abbastanza noto. Vabbè, era noto anche prima. Ma lì il ruolo era molto emozionante anche come era interpretato il ruolo di Aldo Moro, perché è un Aldo Moro totalmente diverso dalla grafia. Ecco, lì il rapporto tra lei e Bellocchio su Aldo Moro. Ma devo dire che, ecco, anche questo è un caso… Quanto ci ha messo di su, ecco, questo volevo dire. Devo dire che anche in questo caso Bellocchio mi ha certamente seguito con occhio attento più che chiedermi di fare delle cose, semmai piuttosto, diciamo, in quelle poche battute che dico può avermi chiesto di mitigare certi colori che lui diceva teatrali, posso anche capirlo perché tra teatro e cinema c'è un po' di lontananza in questo senso. E io l'ho fatto meglio che potevo. Però la cosa che mi ha indubbiamente emozionato è che quando lui mi riprendeva, in certi casi, che peraltro erano frequenti, in cui Moro era solo, la sua attenzione, cioè la macchina da presa, quella lì, rimaneva su di me più di quanto non fosse deciso. Le scene hanno una certa durata, invece vedevo che duravano di più e questo naturalmente per un attore sentirsi guardato e seguito da una macchina da presa oltre al termine convenuto e poi, essendoci dietro la macchina da presa, bell'occhio, era emozionante. E questa emozione mi ha probabilmente anche aiutato a farlo con più intensità, non so, insomma, mi ha servito. Però io comunque nei confronti del personaggio mi ero ricordato di quando era successo il tutto, e mi sono ricordato di avere preso molta parte a questa tragedia, non io solo, tutta l'Italia naturalmente, però mi ricordavo appunto di avere sentito cose profondamente e questo naturalmente è stato un momento in cui le ho potute risentire, poi ho letto le sue lettere strazianti alla famiglia, insomma, quindi un personaggio poi che c'era, era vivo, era vivente, un personaggio non inventato che aveva sofferto in questo modo, insomma, mi ha molto coinvolto. C'era una partecipazione fortissima su, ecco, questo si sentiva, una partecipazione emotiva, cioè c'era il grande attore ma c'era contemporaneamente un rapporto con una persona. Sia nei confronti di Moro che in certi casi anche nei confronti del regista che mi fissava. Altre situazioni cinematografiche che le sono piaciute, quali possiamo ricordare? Ma io ne posso citare, solo che sono film che poi nessuno ha visto e nessuno vedrà, perché sono film fatti con registi giovani che mi hanno proposto delle sceneggiature che io ho accettato perché mi piacevano, i film li abbiamo fatti, abbiamo beccato una lira, ma questo sarebbe il meno, si lavora per la gloria. Lo scorso anno a Venezia l'era nel film di Gipi. Sì, quello invece è un film anche di un giovane, però insomma con ben altri a tu. mi sono divertito molto. Il ruolo era divertente. Molto divertente, insomma, poi era un ruolo vario, eccetera. Ma io per esempio c'è un film che si chiama Aria, il cui regista si chiama Valerio D'Annunzio ed è un collaterale discendente di Gabriele, dove io faccio un maturo pianista che a un certo punto viene ripreso da una sua stranissima mania, o non tanto strana, mania che aveva da bambino e da giovane di essere una donna, perché incontra un'allieva che ha lo stesso aspetto della donna che lui avrebbe voluto essere. E quindi gli rinasce questa specie di necessità, si dichiara in famiglia, viene cacciato dalla famiglia e poi adesso non dico che cosa succede, non finisce bene naturalmente. Ed è un film che a me è piaciuto molto e anche alcuni che l'hanno visto, però è sparito. Poi ce n'è un altro che si chiama Ciso, dove faccio un vecchio montanaro che riceve in casa il figlio che ha sposato un'indiana, che hanno un bambino, anche lui mezzo indiano, e che vengono rifiutati dal paese e lui invece ridifende anche quello, girato sulle montagne del Trentino, ci sono persino le mucche, ma anche quello non si vede. Perciò voglio dire, se mi chiede esperienze piacevoli, ecco queste lo sono, almeno finché le ho fatte, poi dopo diventano dolori. Eh, ma spera che ce ne siano sempre delle altre.